La settima giornata di Serie C FIPAV è una sentenza per la Promoball che esce nettamente sconfitta dalla sfida in casa contro la Lehman Volley ASD, 1-0-3 da far girare la testa con le ragazze di flero che hanno subito per tutta la partita le azioni dell'avversaria in tutte le fasi di gioco. Per le ragazze allenate da Coach Taramelli questa è la peggiore sconfitta della corrente stagione. Le ragazze della Promoball scendono in campo ricordando la sconfitta dello scorso 6 maggio proprio contro la Lehman Volley che ha impedito loro di accedere alle finali regionali Under 16, infatti la line up della Promoball è in campo sostanzialmente senza variazioni rispetto alla gara di maggio. Il primo set inizia con il sestetto basi, Marinoni, Migliojkovic come lati, Basalari, Tomasi come centri, Giacomini opposto e Papa al palleggio con Salvetti in posizione di giocatrice libera. La Promoball però, nonostante la voglia di riscatto, parte decisamente sotto tono. Dopo aver subito una serie di punti inaspettata Taramelli inserisce Di Giulio al posto di Papa e poco dopo cambia Bertoletti per Salvetti. La squadra bresciana non riesce mai a ingranare la marcia e si lascia andare a continui errori. Taramelli tenta di svegliare le ragazze con il primo timeout sul 5-12 ma il risultato non si ribalta. Nonostante gli sforzi per sistemare le ragazze in campo da parte di Taramelli, il set finisce in discesa per le ospiti bergamasche con il risultato di 14-25. Il secondo set inizia con un cambio da parte dell'allenatore delle ragazze di Flero che sposta Basalari come opposto e insinisce Gannar al centro, mantenendo intatto il resto della formazione. Il parziale però è da capogiro e nonostante le modifiche sostanziali alla formazione in campo, con Migliojkovic per Zanetti, Bertoletti per Salvetti e Piantoni per Gannar, la serie di punti della Lehman si interrompe solo per un errore delle ospiti sull'1-10. La promobol prova a rialzarsi con un cambio doppio, Papa per Basalari e Giacomini per Di Giulio, che finalmente sembra smuovere un po' le acque tra le fila delle Bresciane fino a costringere coach Malinov a chiedere tempo sull'8-17. Il barlume di Speranza si spegne però presto con la Lehman Volley che chiude il capitolo con un deciso 12-25. Il terzo set inizia con l'ennesima modifica alla formazione per le Tigri di Flero, con Giacomini che diventa Lato insieme a Turina e con Zanetti opposto. Taramelli è costretto a chiamare il timeout in due occasioni, sul 2-6 e sul 7-16 per tentare di smuovere la situazione mentale delle ragazze che non sono mai entrate in partita. La Lehman però continua a macinare punti e arriva in scioltezza al 13-25, concludendo la gara di sabato 24 novembre 2018 con uno 0-3 così netto da non lasciare scampo.